Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Quante attrici sono nate e cresciute sul set? Beh, abbastanza, ma poche sono riuscite a costruirsi una carriera come quella della bravissima e poliedrica attrice di cui parleremo oggi, Natalie Portman. Classe 1981, Natalie Herschla, nata a Gerusalemme, nel 1994, a soli 13 anni, diventa protagonista assieme a Jean Reno del film cult Léon, diretto da Luc Besson. Inizia una carriera che la porterà a recitare assieme a grandi attori come Robert De Niro e Al Pacino in It, La Sfida, diretta da Woody Allen in Tutti dicono I love you e diretta da Tim Burton accanto a Jack Nicholson e Pierce Brosnan in Mars Attacks. Ma è nel 1999 che ottiene grande popolarità interpretando la regina Padme, madre dei futuri Luke e Leia Skywalker, nella trilogia prequel di Star Wars. Dagli anni 2000 in poi, a modo di mostrare la sua bravura, uscendo dallo stereotipo di brava ragazza, interpretando ruoli diversi tra loro. La conturbante Alice in Closer, Evie Hammond nel cinefumetto V for Vendetta, la ballerina Nina Sayers in Il Cigno Nero di Darren Aronofsky, ruolo che vale alla Portman e suo primo Oscar, e non ultimo il ruolo di Jane Foster, Grande Amore del Dio del Tuono, in Thor e Thor The Dark World, ruolo che riprenderà nel prossimo capitolo Thor Love and Thunders. Parecchie grandi voci italiane si sono alternate sul viso e le labbra dell'attrice israeliana, Ilaria Stagni in Closer, L'ultimo Inquisitore, e in Mr. Magorium e La Bottega delle Meraviglie. C'è un branco di estranei tristi fotografati da Dio e tutti i fighetti stronzi che si dichiarano amanti dell'arte. Dicono bello perché è questo che vogliono vedere. Ma le persone nelle foto sono tristi e sole. Però le foto fanno credere che il mondo sia bello e così... Sì, la mostra è rassicurante, quindi è un inganno. E un bel inganno piace a tutti quanti. Connie Bismuto in V for Vendetta e Brothers. Vi prego eccellenza, non abbiamo molto tempo, io devo dirvi una cosa. Non è un gioco eccellenza. Sta per arrivare una persona e credo che voglio uccidervi. Ve lo dico perché voglio una sorta di protezione o di amnestia. Io non c'entravo niente con il peli, ho commesso un errore terribile alla Jordan Tower, ma credo di aver pareggiato i conti. Barbara De Portoli in Un bacio romantico. Sì, hai un bel gioco. Sai che ti dico? Tu ora ti prendi i 600 e io i 1000 e poi scommettiamo sul resto. Ma ti sembra abbastanza? Mirian Catania in La mia adorabile nemica. Mia madre voleva assolutamente andarsene da Bay City. Credo che abbia sposato il mio patrigno Ted perché lui era così pulito e per bene. Le mancava il mio vero padre, che era egiziano, bruno e romantico. Ma sono due le voci principali che hanno accompagnato Natalie Portman sin dall'inizio della sua carriera. Valentina Mari, che comincia a doppiare la Portman nel suo primo film León, fino a seguirla in altri film come Tutti Dicono I Love You, Mars Attacks, Ritorno a Cool Mountain e per ultimi i film Thor e Thor The Dark World. E Federica De Portoli, che partendo da Hit La Sfida, doppia l'attrice in tanti film come la trilogia di Star Wars, Il Cigno Nero, Jackie e moltissimi altri. Valentina Mari... León, esattamente che lavoro fai per vivere? Le polizie. Vuoi dire che sei un sicario? Sì. Forte. E se mi ricogliete pietà? Siete una strega. No, mio signore. Una maledetta diabolica strega. Perché? L'ho perso subito. Nostro figlio. Non ho colpa di questo. No. Dite allora, che cos'altro vi ho fatto? Guardie! Mio signore! Si può sapere dov'è? Dov'eri tu? Ero proprio qui dove mi avevi lasciata. Prima ti ho aspettato, poi dopo ho pianto, poi sono andata in giro a cercarti. Avevi detto che saresti tornato. Federica De Portoli. Ciao. La mamma si è dimenticata di passare a prenderti? No. Mi andava di stare da sola. E va bene. Avevo 12 anni. Si chiamava Palo. Era con me nel programma legislativo giovanile. Aveva qualche anno più di me. Molto carino. Capelli ricci scuri. Occhi sognanti. Va bene, sì, ho capito. E poi, che fine ha fatto? Io ho intrapreso la carriera politica. E lui si è dedicato all'arte. Ha fatto la cosa più intelligente. Non ti piacciono proprio i politici, eh? La gente ama le favole. Sei pronta? Certo. Io credo che i personaggi di cui leggiamo finiscano per diventare più reali dell'uomo che ci sta accanto. Allora ho urlato Jack. Jack, riesci a sentirmi? Jack, ti amo, Jack. Due voci simili, ma che con diverse sfumature sono riuscite a dar cuore e anima alla nostra attrice. E, diciamolo, anche a far innamorare noi maschietti. E voi? Quale voce preferite? Continueremo ancora a parlare di grandi attrici, di grandi doppiatrici, sempre qui, su Voci.fm. Un saluto da Alessandro Delfino. News dal mondo della voce. Radio doppiaggio. Voci.fm. Il magazine.